Salve amici, finiamo qui la nostra puntata, come vogliamo chiamarla, la nostra avventura in questa casa, ma torneremo perché abbiamo avuto tantissime comunicazioni con Ovilius, e Ovilius normalmente in Italia non funziona tanto bene, invece possiamo smentire questo, vero ragazze? Sì, vero. Torneremo prestissimo, molto molto presto, è una questione forse di 7-8 giorni, perché, sì, grazie di aver comunicato con noi, grazie, quello che poi potremo mettere lo mettiamo in rete, ok? Come possiamo dire? Leviamo via la pila e... Gypsy, out! Passiamo di nuovo Gypsy out, però proprio smosh. Out! Ah, devi fare le foto! Eh, facciamo la posta, no, no, devi fare così, ma ci vuole niente, e c'è un tasto sopra. Grazie. Grazie a tutti.